Ciao ragazzi e ragazze, oggi proviamo a fare lo zuccott, non so se si chiama zuccott, quello a cupola, a cupola, ho visto in giro, l'ho visto in televisione, l'ho visto a bake off, non lo faccio proprio così diciamo eh? Comunque proviamo a fare lo zuccott, adesso vi dico gli ingredienti, 50 grammi di farina, 32 grammi di zucchero, 2 uova e un po' di scorzetta di limone, poi per farcirlo dentro io ho preso 2 ricottine senza lattosio, queste qui all'Eurospin, così proviamo come sono. Anche questo cioccolato qui che è buonissimo con le nocciole che ho preso l'Eurospin a pezzettini e metterò solo un cucchiaio di zucchero eh? Perché non mi piace troppo dolce la crema. Allora vediamo il procedimento per fare il pan di spagna prima eh? Bisogna dividere il rosso dal bianco. Così. Dopo montiamo i due rossi con lo zucchero. che diventa chiara così, poi aggiungiamo la farina. Poi aggiungiamo la scorza di mezzo limone. e aggiungiamo un po' alla volta il bianco montato. una crema spumosa così. Prendiamo una placca a forno con della carta a forno. Io siccome ho fatto mezze, ho dimezzato le dosi per farlo piccolo, farò tipo un quadratino così e non lo riempio tutto. e facciamo tipo un rettangolo. In forno. È cinque minuti eh? Cinque massimo dieci minuti perché io ho fatto mezze dosi eh? Ho fatto la dose mignon. Intanto che aspettiamo che cuoce il pan di spagna, prepariamo la nostra crema gollosa. Allora prendiamo le due ricottine, le versiamo in una ciotola. Così. Aggiungiamo un cucchiaio di zucchero. Mescoliamo. e aggiungiamo un po' di cioccolato a pezzetti. Tipo così. Lo aggiungiamo alla nostra ricotta e zucchero. e mescoliamo. E ancora un po' che stava dentro, bruciava. Prendiamo un altro foglio. Prendiamo un altro foglio. e dobbiamo arrotolarlo. Rotolarlo. E chiudere l'estremità. Poi metterlo in frigo almeno un'oretta. qua. Allora. Ma sembra un cannone gigante. Dovremmo farlo a fettine, tipo delle girelline. delle girelline così. Poi prendete una ciotolina. La foderate con della vellina trasparente. e adesso dobbiamo mettere tutte le girelline dentro. Poi dentro qua ci mettiamo ancora un po' di cioccolato tagliato a pezzi. Ancora del cioccolato tutto sbriciolato con cioccolato e nocciola a pezzi. Lo mettete dentro. E poi lo copriamo. Così tutto coperto. Io l'ho fatto piccolo eh. Se voi fate la doppia dose vi viene alto fino al livello. Io l'ho fatto piccolo come prova eh. E lo mettete in frigo per un'altra uretta. No ma ragazzi. Guarda. Posso mettere su una spolverizzata di zucchero a velo o di cacao? Come così. Tu dici te che è meglio. Mettere su una bella schiumata di panna. No di panna. No perché poi... Vado a prendere il cacao. Aspetta che ho un'idea. Arrivo subito. E poi non mangiarono. Ho detto. E' bellissima. Sì. Sono alle due e mezza di notte. Siamo tornati da ballare. Se svegliate di colpo avevo voglio di fare lo zucco. Facciamo lo zucco. Io pensavo che sempre lo dovevo fare. Ha fatto lo zucco. Vedete che? Vedete il zucco otto? Dai. Dai. Adesso siamo tornati da ballare. Siamo a tre centronziani anche stasera. Sì stasera. Siamo tornati già. Beh c'è la musica revival. Revival. Roba che... Tango così. Roba... Pensante. Revival. Revival. Adesso la roba rosa per tutti. Allora aspetta eh. Concentivo la scoprenza. No dai. Che dico tu hai chiesto qua? Sono di selvatico questo cacao di selvatico. Puccia come una giungla. Senti che roba. Non hai metto tutto questo qui. Ma no ma non lo so. Perché si vede che così è... Sa di umido. Sa di umido. Allora ragazzi. No. Guardate che meraviglia. Guardiamo. Eh? Allora adesso il cameraman lo assaggia. Sono di due di notte ragazzi. Allora andiamo a mangiare strumenti. Andiamo a dormire. Oh. Mi rimane qui. Sogno tutti i numeri. Gioco l'otto dopo eh. Dai. Guardi sono i vampiri dopo di notte eh. I vampiri. Sudo. Allora giusto. Ti do proprio una rotellina da stagione. Una rotellina. Una delle tue. Di quelle che hai perso. Dai muovi. Ahhhh. Una rotellina così eh. Ma sembra che erano in su più che altro però. Guarda. Ti metto anche un pochino di ciocconato. Il gabinetto è sempre là eh. Bagno è sempre là eh. Pena dietro la sinistra. No dai ma come si fa? Ma maca. Ma se. Dove vai? Ehi 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 ehi. Allora? Ahahah. Dai l'ha fatto cadere. Ma no. Ma non è così. È giocotto qua. Ci sono i pezzi. È giocotto perché. Ti metto l'ovico che spendo sulle due di notte. Sì ma c'è una bisella qua. Sì. Sì. Capito? Comunque. E intanto non mi dice com'è. Torniamo a noi. È buono? Buono. Torniamo a te dove lavorare qua. Dai. Ragazzi è specializzata. No. A Natale fate un figurone buono. Ovviamente. Allora. Fatelo più grande. Mettete. Mettete. Per fare un bel figurone. Nella velina ci mettete 500 euro. Sopra questo. Quando arrivano in fondo trovate 500 euro. Fatti un figurone. Non mi scordano più. Un Natale che non mi scorda più nessuno. Non mi scordano più nessuno. E cosa dobbiamo dire? Se volete fare le mie ricette. Mandatele su Instagram. Che noi le mettiamo dove? In pubblicità. Noi. Noi mettiamo. Nelle storie. Nelle storie. I never want a story. Oh 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 oh. Story. I never want to see. Sarà sui live. Andiamo a dormire. Ciao. Ciao.